Sul fronte della lotta al covid la Regione Veneto vuole portare avanti uno screening tra gli anziani per verificare la loro situazione, capire quanti anticorpi hanno e se potrebbe essere utile una terza dose di vaccino. A leggere le carte della sanità israeliana che ha già iniziato sembra proprio di sì. Quando tu leggi che riduce di quattro volte i sintomi gravi nel vaccinato con la terza dose e di dieci volte l'ospedalizzazione, penso che qualche riflessione debba essere fatta. Ciò che è certo, sottolinea Zaia, è che da Roma deve arrivare l'indicazione sulla terza dose adesso e non a dicembre o gennaio. Intanto nella notte si è registrato un decesso per covid a Rovigo, un uomo di 54 anni senza patologie ma anche senza vaccino. Abbiamo sempre a Rovigo, fra l'altro una 32enne, un 57enne e un 71enne, tutti e tre non vaccinati. 32, 57 e 71, tutti e tre non vaccinati in terapia intensiva. E stanotte ha perso la vita purtroppo un signore di 54 anni non vaccinato. Quanto ai vaccini aumentano le richieste e c'è accesso senza prenotazione dai 12 ai 25 anni e dai 60 anni in su. Abbiamo dato un'ulteriore disposizione a tutti i centri vaccinali da oggi, che se qualcuno si presentasse a fine giornata, i famosi riservisti eccetera, non si stia lì tanto a pignolare perché comunque noi vaccini ne abbiamo a disposizione. La dottoressa Russo, a capo dell'ufficio di prevenzione, infine ha sottolineato come su 6 milioni di vaccini si siano registrate 15 mila reazioni, il 12% delle quali gravi. C'è tempo anche per una considerazione sull'autonomia. La regione sta preparando osservazioni al documento presentato dal governo e non è una proposta del ministro Gelmini come qualcuno ha detto. Non esiste un documento Gelmini, esistono documenti del passato governo che noi, siccome abbiamo contestato, vogliamo metterne su bianco i punti che non ci van bene affinché questo governo sappia che non si parta da quei punti là perché se no è un nulla di fatto per noi. Con il governo la trattativa riprenderà dopo la pausa estiva, compatibilmente con la situazione della pandemia. Zaia incontrerà alcuni ministri nelle prossime settimane.